Si presenta questa mattina la rassegna estiva Il Canto del Marrobbio che arriva quest'anno alla terza edizione. Come sarà sviluppata? Come si svilupperà? Allora, si svilupperà a partire dal mese di luglio con una festa di apertura che avrà luogo il 2 luglio, giovedì prossimo, quindi, aperta a tutti. Invito infatti tutti, proprio tutti, a partecipare a qualunque età, anche perché quest'anno ci sarà anche la novità del settore giovani. Quindi abbiamo anche pensato ai giovani che di solito non sono mai presenti o sono presenti veramente in misura minore. E quest'anno invece ci sarà proprio una sezione dedicata a loro per ballare, cantare con noi, divertirsi, assistere anche a delle rappresentazioni teatrali per la loro età. Il 2 ci sarà un gruppo di musicisti molto molto bravi della provincia di Palermo, la Lab Orchestra, con la conduzione fra l'altro anche di Massimo Minutella, che proviene da casa Minutella e quindi un po' tutti penso che lo conoscono. Avremo una festa, una festa in tutti i sensi. Lì presenteremo i vari trailer di tutti gli spettacoli e degli ospiti che le terranno la nostra rassegna. Agosto sarà un mese pieno pieno, molto di tutti gli eventi sia musicali che teatrali. Diciamo che quest'anno l'attenzione sia anche diretta a due impegni di teatro comico, non solo il cabaret. Quindi c'è veramente di tutto e per tutti i palati. Vi aspettiamo. Creare una rassegna con appuntamenti fissi, con elementi del calibro di Gianfranco Iannuzzo, Paolo Migone, Dado, verrà l'orchestraccia che è un gruppo romano che sarà una grande sorpresa, composto da tutta una serie di attori e musicisti molto famosi, poi li conoscerete quando verranno a fare la loro esibizione, tante altre cose. Ci saranno. Mi preme invitare, proprio perché sarebbe riduttivo parlarne adesso in una semplice intervista, perché sono veramente tanti. Noi abbiamo più o meno 25 appuntamenti durante tutta la rassegna estiva, itineranti per la provincia di Trapoli, non solo a Mazzara. A Mazzara avremo chiaramente lo zoccolo duro, ma poi i cinque eventi li faremo a Marsala, a Triscina, Castelvedrano, Selinunte, a Gibellina. Appunto sono tanti, non saprei proprio dove iniziare. Per cui invito tutta la cittadinanza e non solo a partecipare giovedì 2 luglio alla presentazione ufficiale della rassegna. Noi faremo un grande show, un grandissimo show, e questo sarà assolutamente gratuito, l'ingresso è libero, in Piazza Mocarta, con la Lab Orchestra, che è un'orchestra di musicisti eccezionali, un'orchestra palermitana, ed è uno show a tutti gli effetti, con la conduzione di un anchorman di assoluta professionalità, che è Massimo Minutella, qualcuno lo conoscerà dalle tv locali palermitane, TRM, Telemed, per condurre Casa Minutella. Quindi sarà uno show a tutti gli effetti, dove parteciperanno questa orchestra, Lab Orchestra, e alcuni dei protagonisti della nostra rassegna. Altri che non saranno disponibili per quella data, comunque saluteranno con una video intervista il pubblico che interverrà. Quindi comunque invito tutti il 2 luglio per assistere giovedì 2 luglio in Piazza Mocarta a Mazzara, ingresso libero, per vedere uno show bellissimo e per avere piena cognizione di quella che sarà la nostra rassegna.